Ciao, sono Paolo Bacci e vi presento l'Aica Ecovip 112, un camper letto centrale posteriore lungo appena 6,59, che ha un bel garage. Guardate com'è grande e ampio, una bella vasca raccoglie sporco acqua col suo scarico, l'ancoraggio del portamoto, guardate com'è comodo, com'è comodo e grande. Questo è con letto basso, quindi come potete vedere ha sempre un grandissimo contenitore, anche qui c'è un altro sportello e ci si può mettere ancora tante cose. Il garage è illuminato e riscaldato. E ora entriamo dentro, porta zanzariera, una dinette confortevole, perché pensate che si sta parlando di un 6,59 con letto centrale, quindi una, due, il tavolo che si sposta, tre, quattro, cinque, e poi anche la possibilità del sesto posto. Quindi quando vi trovate a conversare con amici, questo camper è veramente accogliente. Zona cucina, ha due fuochi, una bella vasca profonda, un bel piano, un bel pensile con grande contenitore, vari cassetti, con porta posate, poi un'altra stupidaggine, ma sempre comodo, su uno spazio così stretto, avere sfruttato questo piccolo spazio per contenere altre cose. Un frigorifero alto a colonna, con congelatore, e tanto spazio, porta bottiglie e altre cose. La parte posteriore. Questo camper ha un colore chiaro, quindi non ha il basculante, come potete vedere dalla parte anteriore, con il colore chiaro è veramente spazioso. Anche il bagno, il bagno è un oggetto un po' compresso, il bagno, guardate, facile, water, il lavello, semplice da lavare, da lavarsi, farsi la barba, e poi questa parete si sposta e diventa una doccia. Eccola qua. Quindi questa parete si chiude e diventa una doccia. Guardate. C'è anche una doppia isolamento. Questa parete che scorre, è una porta, diciamo, un divisorio di tela, che però divide la parte notte alla parte giorno. La parte posteriore. La parte posteriore, questa è la posizione bassa, quindi facilissimamente andare a letto. E guardate com'è molto semplice. Io sono 1,80 m, ora questo camper, essendo 6,59 m, è molto compatto, quindi la mia altezza non è il massimo. Avere due persone con questa altezza non è il massimo. Però la larghezza, vi posso far vedere, è veramente comoda. il pensili e due armadi laterali. Quindi ti aspetto per consigliarti il campo ideale per te, nel nostro parco di nuovo e usato, farvi vedere questo camper. Se vuoi, guarda il nostro sito caravambacci.com, alla scheda del 112, troverai tutte le caratteristiche e gli option sopra, che sono inseriti in questo mezzo. Il prezzo, come sempre, ottimo, da un'azienda solida come la Caravambacci. Ciao!